ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti alla nostra diretta del lunedì per iniziare la settimana più gasati che mai magari anche bitcoin fosse gasato come noi perché almeno si muoverebbe almeno farebbe qualcosa stavo scherzando prima con gli amici su discord dicendo che non so che titolo dare oggi al video perché bitcoin non sta facendo assolutamente niente è lì sempre in questo benedettissimo range spiaccicato tra il supporto appena sotto il massimo storico ed il massimo storico stesso ma non reagisce cioè lì fermo completamente inerme non ci prova neanche non ha neanche fatto dei falsi movimenti insomma è veramente una cosa totalmente inerme belli capelli sia ancora per poco perché ho prenotato il parrucchiere ma adesso non so perché vanno tutti dal parrucchiere in questo periodo mi sta facendo aspettare all'impossibile ma è il momento di andarci me ne rendo assolutamente conto comunque che dire bitcoin non ha molto da dirci rispetto a quello che ci siamo detti le scorse negli scorsi live nelle scorse analisi andremo a rivedere un po appunto aggiornando con le ultime candele magari andiamo a dare un occhio nell'intraday e tutto quanto e magari andiamo a dare un'occhiatina alle altcoins se ce n'è qualcuna un po più carica ma in realtà neanche le altcoin stanno facendo chissà che ce ne sono giusto due o tre che si stanno muovendo in particolare il settore defi sembra bello carico bello casato e alcune anche c'è fai perché ho visto che nexo sta spingendo abbastanza ma perché mi sa che ha introdotto delle nuove politiche delle nuove tokenomics che mi ero segnato di studiarmi ma non ho ancora fatto ma se non erro c'è una sorta di buyback hanno introdotto una sorta di buyback per evitare l'inondazione sul mercato di token in ogni caso che dire darò più spazio a voi alle vostre domande ai vostri dubbi a tutto quello che avete da dirmi perché vi voglio comunque carichi gasati e sul pezzo anche se bitcoin non fa niente non è che c'è da tirarsi indietro c'è da andare a dormire perché poi quando meno ce l'aspettiamo lui parte e ci stupisce e non lo so ci coglie sempre impreparati e poi noi ci lamentiamo io inizierei immediatamente no prima vi vi avverto di una cosa stavo dando una scrollata su twitter adesso in questi ultimi minuti e ho visto che gira un fake un'applicazione fake di ave su android su play store mi pare che sia e io non lo so non ho android quindi non ho potuto verificare ma tendo a fidarmi di quello che leggo su twitter questa è una fonte abbastanza affidabile e in sostanza a parte che non esiste un'applicazione di ave quindi state molto attenti se trovate delle applicazioni su punto sui sui vari app store tra l'altro ci sono le recensioni tarocche vabbè si vede che ha pochi download però attenzione che non esiste l'app di ave ma come ave ci sono tante applicazioni false di legger live dei vari wallet insomma bisogna fare tantissima attenzione allo scarico al download delle applicazioni perché spesso la prima cosa che poi ti chiedo nella chiave privata con una qualche scusa quindi chi anche dovesse sbagliare scaricare l'applicazione che non potrebbe non essere un dramma evitate comunque di farlo ma non inserite se vedete che vi chiede la chiave privata come l'aprita allora lì ovvio che è uno scam clamoroso quindi va de retro bene niente detto questo io comincerei subito a leggere le vostre domande dai partiamo così oggi va così e insomma tirate fuori qualche bel argomento dai fate fatevi valere buonasera buonasera intanto prendo posto bravi sedetevi comodi che io arrivo buonasera eccoci buonasera e buonasera a tutti ciao luca volevo chiederti se esiste un token rappresentativo di un progetto prodotto che ridistribuisca ai possessori del token i profitti dell'impresa stessa via usd o via token stesso una sorta di business model simile a quello delle stock option nei mercati tradizionali ma non buyback e una sorta di dividendo in sostanza giusto cioè tu dici tu detieni il token e in cambio quel token ti dà diritto a una quota dell'utile mi pare che abbiamo parlato poco fa guarda neanche a farlo apposta il token di nexo fa questo se tu detieni il token in sostanza tu compartecipi all'utile della piattaforma perché ricevi annualmente un dividendo e tra l'altro c'è anche un programma fedeltà che tu più token hai e più la percentuale che ricevi poi è maggiore quindi questo è uno di quegli esempi sto pensando se me ne vengono in mente altri vabbè ci sono le i modelli defy ci sono alcuni token defy che se vengono messi in staking danno diritto a una reward ulteriore la defy con i suoi liquidity pool mi viene in mente un swap sushi swap ti dà già diritto al guadagnare le fee però se ad esempio su sushi swap hold i sushi e li vincoli oppure se su yearn tu detieni il token yfi altre altre piattaforme che lo fanno forse curve se tu metti in staking i crv e diventano ve crv tu in sostanza ottieni una rendita ulteriore derivante proprio dall'utile della piattaforma quindi una parte delle fee di tutti quindi anche questo si può vedere forse in questo modo non è di fatto un qualcosa di regolamentato una security come invece nexo che è di fatto un security token perché ha fatto la security token offering compliante con l'SCC e quindi ha le carti in regola per distribuire i dividendi però è sempre il modello è sempre quello ecco dove sia era da un pezzo che non ci si annoiava con i grafiti con i grafici di bitcoin guarda ma tra l'altro proprio sotto il massimo storico ci andiamo ad annoiare cioè ve lo sareste mai aspettati ma il bello è che quando insomma c'è tanto tanta non lo so tutti i fomentati tutti i carichi pompiamo dampiamo e lui cosa fa lui se ne sta fermo e se ne frega proprio con superiorità c'è bitcoin che cammina tutto altezzoso se ne frega di quello che la gente dice buonasera a tutti luca ma se ma che dici il triangolo che ha creato preannuncia un possibile slancio long guarda ma sai che io in realtà sto triangolo faccio un po fatica a vederlo cioè io in realtà qui vedo un range più che un triangolo adesso tra poco andiamo ad analizzare il grafico ma io di triangoli non ne vedo sarò cieco io non lo so magari sull'orario qui c'è un triangolo ma c'è un po snaturato il triangolo perché cos'è qui forse questo potrebbe essere visto come un triangolo cioè con le shadows forse oddio volendo potrebbe essere un triangolo però sai qual è la fregatura dei triangoli soprattutto sui low time frame adesso te lo dico che noi stiamo lì a seguire che questo triangolo dicendo sì adesso fa il break dall'alto quindi pompa se fa il break dal basso dump e in realtà sapete poi cosa farà farà tipo un break così poi va tac fa il range high e poi tac se ne frega lui continua a lateralizzare fuori dal triangolo oppure da sotto tac tac e continua in questa maniera quindi non lo so su dei time frame così ridotti andare a cercare i pattern soprattutto i triangoli che poi dipende anche da come li si considera perché se consideriamo la chiusura delle candele potrebbe essere un livello statico se invece consideriamo le shadow è un livello dinamico non lo so non mi convince ti dico la verità non starei a scervellarmi troppo su questo triangolo mi sembra più un meme che altro io di solito guardo il giornaliero cerco la struttura su questi time frame al limite anche sul settimanale in questo caso il settimanale ovviamente non evidenzia niente perché non c'è neanche una settimana noi ci annoiamo subito ma in realtà non è neanche da una settimana che sta lateralizzando comunque ripeto qui di triangolo non è che ce ne sia troppa traccia ecco dunque continuiamo allora grazie a tutti gli amici che si stanno abbonando tra l'altro ricordo che scillata con amazon prime potete usare potete avere twitch gaming adesso si chiama visto e abbonarvi a costo zero quindi vi ringrazio di cuore se lo fate buonasera luca buonasera a tutti grandi grandi ciao luca visto che ci sarà il listing del token di terra virtua lo stai ancora seguendo l'nft che avevi detto di riscattare come vai riesco a vederlo sul loro sito e non su openc allora dovresti se avevi fatto il redeem perché tu all'inizio c'era da fare peccato per luca io di triangoli non ne vedo sul grafico è sul grafico non fraintendete le mie parole stavo parlando del grafico allora no stavamo dicendo lo openc in realtà l'nft di terra virtua era da riscattare all'inizio vi ricordate avevamo fatto il video c'era il giveaway poi c'era da fare il claim sul token perché altrimenti non ti davano il token io spero che tu l'abbia fatto buonasera e con questo con questo messaggio ho smesso di essere un lurker ma benvenuto nel mondo degli attivi dei commentatori e facciamo così per darti il benvenuto ti do anche 10 shit coin te le meriti tutte dai bisogna bisogna essere così bisogna tirare sulla testa e dire la propria anche se magari non si è abituati perché è più bello fa più community allora 20 shit coin visto che nei pochi tac andiamo avanti ciao non vedo più la scatola di ps4 la su forse arriva la ps5 no guarda purtroppo non non c'è purtroppo non è che la volessi all'impazzata e però ovviamente è andata a ruba io non sono stato neanche impazzire più di tanto non l'ho presa aspetterò la prenderò perché sono abbastanza nerd però ti dico adesso sto impazzendo dietro a sekiro su playstation 4 quindi mi sa che ne avrò ancora per un po se mi sentite imprecare sapete il perché comunque no ho fatto un po di ordine qua sopra perché mi stavo rendendo veramente conto che era una situazione ingestibile c'era boh c'erano delle specie mai specie sconosciute che albergavano lì sopra potresti dare un'occhiata al token di nexo va bene diamoci un'occhiata tu dici il grafico o dici proprio il token perché il grafico di fatto sta spingendo assai guardate che roba ma c'era un motivo se non erro il motivo aspettate che lo andiamo a recuperare se mi viene in mente ve l'ho detto avevano introdotto mi sono arrivato un po di mail da nexo che parlavano di nexonomics e adesso non so esattamente me l'ero segnato di guardarlo però poi non l'ho mai più guardato ecco un buyback un programma di buyback di 12 milioni questo me lo ricordavo poi vabbè qua c'è un po di scillaggio sul discorso degli istituzionali loyalty program earn per tre in bitcoin questo sia una promo di dicembre però mi pare andiamo a vedere in live tutti insieme nexo tra l'altro non ho neanche il referral link di nexo non so nemmeno se esiste per uno per due sì praticamente durante un periodo promozionale che a dicembre se non erro viene triplicato il il guadagno di interesse in bitcoin beh non male dai però mi pare solo per i nuovi utenti se non erro scusate sto leggendo anch'io insieme a voi non lo so non l'ho capito magari ditemelo voi poi il programma fedeltà è cambiato forse 1 per cento più allora beh in base a quando ah ok non c'è più quindi soltanto il lo step al 10 per cento che prima dovevi avere il 10 per cento di nexo in portafoglio per avere un bonus ma in realtà ci sono degli step intermedi quindi da 1 a 5 per cento da 5 a 10 anche che fa il passaggio tra tipo 8 e 10 sulle stable coin sapete che si guadagna di base l'8 per cento su nexo più 2 per cento se si decide di guadagnare in token e se si aveva almeno il 10 per cento di token nexo si saltava il 10 adesso hanno messo gli step intermedi bene ci sta carino e poi il buyback hanno fatto un buyback di 12 milioni di token e che saranno bloccati per 12 mesi e poi tra l'altro dicono che ce ne saranno altri in futuro e tutte queste cose insomma hanno pompato un po il token tornando al token andiamo a fare un'analisi sul settimanale e effettivamente praticamente nexo adesso non so se è su qualche altro exchange ha uno storico un po più lungo ma qui è come se fosse un unico gigantesco range che si muove tra un low che è 1000 satoshi all'incirca questa zona c'è questa deviazione qua che però non lo so non la considero neanche tanto e il top è questa zona dove siamo adesso 2005 2004 2005 quindi vediamo perché potrebbe andare in price discovery e potrebbe essere assolutamente interessante seguire seguire nexo potrebbe valerne la pena non so su che altri exchange si trovi a parte wabi questo potrebbe essere un peccato perché wabi non ho nemmeno la hit btc che per l'amor di dio lo lascerei lì dov'è uniswap su uniswap piuttosto sì è peccato questo è un punto debole questo è un punto debole il fatto che è su pochi exchange comunque attenzione che adesso stiamo approcciando i massimi quindi non è certo il momento di speculare long però qualora dovesse dovesse romperli potrebbe essere interessante allora ciao non vedo più no l'abbiamo già letto stavo correggendo le verifiche dei miei studenti ma per la tua live smetto volentieri poverini così loro domani magari si aspettano i risultati e gli dici no dovevo guardare la live e loro ti diranno ah ma chi è quel pirla che hai guardato io ecco bene no cosa ne pensi di edu token pnt sembra un progetto grandioso guarda non l'ho più seguito tanto perché non ha più fatto tanto parlare di sé in quanto a particolarità però posso dire che in passato ha fatto aveva la sua roadmap e l'ha sempre seguita portando a casa i risultati detto questo ripeto non l'ho più seguito tanto quindi non so che cosa c'è in ballo per il futuro però in passato si sono comportati bene mi pare c'era quella famosa carta che però mi pare che sia stata un po' posticipata per motivi più che altro di giurisdizioni, legislazioni, permessi eccetera eccetera ciao Luke conosci il token UNFI? sai come funziona la piattaforma e il perché sta pompando in questi ultimi giorni? allora no non lo so però mi ero segnato non credo che ne faccia parte o forse si aspetta perché mi ero segnato di guardare le piattaforme DeFi sulla Binance Chain e le sto iniziando a guardare a partire da Alfa Finance perché ci vorrei fare un video o in questa settimana non lo so perché è una cosa abbastanza lunga ho una lacuna discretamente alta da colmare però per la prossima conto di farcela ma perché ci sono delle cose molto molto interessanti comunque sì anche questo vedo che è un launch pool multi chain smart contract based DeFi solution tanto per cambiare no sì è sulla smart chain quindi guarda sarà un'altra di quelle a cui do un occhio perché la mia idea era di fare un video un po' come quell'altro vecchio che avevo fatto sui progetti DeFi che mi piacevano di più al tempo e farne un altro con nuovi progetti DeFi che mi piacciono però magari sulla Binance cioè non solo su Ethereum ecco diciamo così e quindi sicuramente potrebbe farne parte ciao Luca ti vogliamo più all time high del solito ma tanto non funziona ormai ho rinunciato non ho neanche più messo l'hashtag pump in diretta dump in diretta tanto non combina una mazza quindi niente in diretta breakout in diretta se magari 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 non dico niente lo fa ho provato a utilizzare la tua strategia su Pinescript da collegare a trading view ma per collegare trading view a Binance devo usare un tipo di alert che posso usare con trading view pro che faccio c'è un altro modo per collegarlo allora allora così su due piedi cioè di sicuro c'è da smanettoni un po' perché in sostanza l'importante è che arrivi un webbook a trading view hub in sostanza per collegare appunto trading view a Binance e quindi tu col trading view pro puoi mandare direttamente il webbook da trading view se non hai il pro non puoi però puoi mandare la mail mi pare tu potresti impostare un trigger che quando ti arriva una mail tu mandi il webbook ad esempio con ifttt però non lo so un po' da smanettoni non saprei proprio puoi vedere cake BNB cake? che l'è cake? si mangia? cake? ma la coppia cake BNB? il grafico? oddio ma questa è nuova non l'ho mai via cake ma che cos'è? che token è? cake BTC? no c'è solo in BNB in BUSD bella questa ma che cosa sarebbe? cioè il grafico non è neanche così atroce perché ha appena fatto un reclaim di un livello interessante che potrebbe essere questo quindi ha abbottomato per ora ha fatto un bottom locale però oddio non l'ho cioè veramente io oggi oggi sto imparando un sacco di cose cake BUSD cake tokens ah ma quello di pancake swap ah è un altro di quelli che devo guardare no ok ok no allora adesso mi torna pancake swap è un altro di quelli che devo guardare da tipo mesi e non ho ancora fatto non sapevo che non fosse quotato in BTC è ancora nella innovation zone è interessante lo guarderò lo guarderò no guarda dal punto di vista grafico non è male posso dire perché appunto ha fatto un reclaim di questo di questo 0,01462 BNB per quanto può valere un'analisi cake BNB magari andiamolo a vedere su boost cake BUSD che secondo me beh a parte qualche anomalia è uguale alla fine anche perché BNB non si sta muovendo granché quindi si è uguale vale la stessa cosa no pancake swap è interessante era proprio uno di quelli che che mi sono segnato da guardare anche quello non sapevo che il token si chiamasse cake sapevo che c'era syrup però non mi ricordavo di cake abbastanza incasinato tra l'altro pancake swap comunque torniamo a noi hai mai provato lo swap di metamask? io due volte mi faceva pagare delle fi mostruose sì è vero attenzione perché se non erro si appoggia a changely dovrebbe essere changely lo swap di metamask e quindi ci sono delle fi notevoli attenzione non è non mi pare che sia defi mi pare che sia proprio changely ciao luca mi spieghi chi sono questi istituzionali di cui si parla tanto bella questa grazie mille ma in realtà guarda per istituzionali si intende un po' tutte quelle grosse aziende le banche i fondi tutti coloro che sono in grado di investire grossi capitali nelle crypto nel nostro caso anche ad esempio paypal è riferito come istituzionale perché è una grande azienda una multinazionale che sta mettendo il naso in paypal poi abbiamo grayscale poi abbiamo microstrategy insomma tutti quei fondi per l'appunto nonché piattaforme di servizi finanziari che si stanno muovendo verso l'offerta ai loro clienti di servizi inerenti bitcoin questo chiaramente porta pressione in acquisto su bitcoin perché loro per offrire queste tipologie di servizi devono in primis detenere bitcoin vi faccio un esempio paypal non vende bitcoin cioè tu non è che da paypal compri bitcoin e te lo sposti sul ledger no te lo devi tenere su paypal è una sorta di sintetico per adesso poi magari in futuro cambierà però deve essere collateralizzato quindi il signor paypal deve avere tanti bitcoin in un volt da qualche parte che possa dimostrare di averli tanti quanti ne ha venduti ai clienti e quindi questo genera di fatto domanda e questi sono gli istituzionali alla fine tutti questi grossi capitali nonché servizi finanziari di grosso calibro che entrando in bitcoin fanno pressione in acquisto e portano un sentiment comunque di mercato più maturo perché di fatto così è FYI BTC come sta procedendo? Jörn immagino intendi ma è fermo anche lui non è che stia facendo grandi cose io ce l'ho sempre aperta è la posizione non l'ho toccata altrimenti vi avrei aggiornato ma è sempre lì adesso ne parliamo tra poco quando andiamo a vedere i grafici ma sarà veloce ve lo dico già ciao gasatissimo mia primissima live in assoluto su twitch ma benvenuto è un piacere è davvero un piacere ciao Luke ti ascolto mentre gioco ad Axie Infinity bravo io ho smesso di giocarci perché altrimenti perdevo le mattinate ci avevo perso due o tre mattinate completamente salute a tutti amici avevi letto quest'articolo deputati statunitensi criticano lo stable act nuovo disegno di legge anti stable coin non l'ho letto l'articolo non so neanche perché se ti va di riportarlo lo guardiamo insieme volentieri ma io sulla stable act mi sono espresso in maniera molto scettica perché la vedo difficile portare avanti una cosa del genere cioè è veramente oneroso per chi deve davvero andare a indagare sulle stable coin andare a bandirle a parte che come fai a bandire qualcosa su cioè nel mondo delle cripto è veramente veramente difficile una coin come Dai ad esempio non riesci a bandirla anche perché se tu vai a dire non lo so uno smart contract non può più erogare la coin troveranno un modo magari per cambiare le logiche dietro in modo che non è più creata dal singolo smart contract ma viene palleggiata in giro non lo so fatto sta che mi sembra veramente la classica scena di chi con degli strumenti poco adeguati cerca di combattere un qualcosa di molto più innovativo non è abbastanza comica come cosa Luca una domanda forse sciocca sicuramente non l'è parliamo sempre di staking e io ho molte monete in rendita passiva con lo staking ottimo ma alla fine della fiera come fanno a dare un interesse in cosa consiste lo staking o su quale meccanismo di rendita si basa immagino abbia a che fare con il proof of stake contrapposto al proof of work legato al mining c'è modo di dire brevemente in cosa differiscono i due protocolli guarda mi piace questa domanda una domanda nuova finalmente non ma mi guardi il grafico no scherzi a parte a me piacciono tutte le domande ma mi fa strano leggere qualche domanda nuova e quindi rispondo con piacere il mining e lo staking sono due metodi per validare blocchi i blocchi di una blockchain in sostanza il mining è quello che viene che porta avanti il proof of work su bitcoin ad esempio adesso perdonatemi magari termini non esatti però voglio far passare il concetto e fondamentalmente il mining si basa sullo spreco di energia da parte degli attori che lo portano avanti e che devono validare i blocchi quindi un attore per partecipare al proof of work deve spendere energia deve spendere appunto lavoro energia elettrica potenza computazionale e alla fine può fare parte del network di validazione di bitcoin ciò che rende sicuro bitcoin è proprio quello che per andare a cambiare i blocchi passati di bitcoin serve una potenza talmente alta che diventa estremamente costoso quindi questo costo è da un lato magari un contro per qualcuno ma è anche il grosso beneficio di bitcoin perché rende veramente costoso l'alterazione della blockchain e quindi ne aumenta di fatto la sicurezza il proof of stake al contrario chiede come prova per validare il blocco al validatore del blocco non il lavoro quindi l'energia spesa ma lo staking quindi il fatto di avere delle coin depositate vincolate in un wallet un client di solito c'è un software da far girare e colui che in quel in quel nodo che ha gestito con questo client vincola le coin può permettersi di partecipare alla proof of stake quindi dice io faccio parte io ho il mio stake che è appunto l'ammontare di coin vincolate sono un validatore anch'io poi ovviamente ogni blockchain ha le sue regole ad esempio su ethereum ce ne vogliono 32 ci vuole l'hardware dedicato su altre crypto proof of stake magari non ci vuole non c'è neanche un minimo e non ci vuole neanche l'hardware basta avere le coin nell'wallet ognuna funziona a modo suo la cosa importante da sapere è che appunto non serve andare a generare energia a utilizzare energia ma si mettono in gioco le proprie coin e sostanzialmente chi cerca di opporsi cerca di andare a manomettere la blockchain rischia il suo stake perché ci sono delle punizioni finalizzate appunto a disincentivare il cattivo comportamento e quindi questo è il proof of stake detto in maniera estremamente semplice poi ve l'ho detto ce ne sono di 100 tipologie diverse in base alla blockchain però detto in maniera banale riassuntiva è così e questo ovviamente da rendita passiva perché adesso abbiamo trascurato l'ultima cosa perché chi come chi fa mining e partecipa ai pool di mining vede una distribuzione delle reward un po' per uno perché c'è il pool di mining chi fa staking allo stesso modo vede una distribuzione delle reward solo perché vincola le sue coin in staking da il suo stake questo è quanto in realtà benissimo allora ho prelevato da blockfi in favore di ledger usando l'indirizzo segwit corretto si può usare pure il native ti direi di sì secondo me supporta sia il segwit col 3 sia quello con bc1 ti direi proprio di sì ciao luca ho appena finito il corso sulle opzioni bitcoin complimenti se hai dei feedback dammeli e ricordo a tutti che non è un corso a pagamento né niente ma è completamente gratuito a disposizione di tutti sul mio canale youtube lo trovate smanettandoci un po' e scorrendo ciao luca vorrei segnalare l'imminente airdrop di token val per gli holder del token xor e rc20 per il progetto polkaswap non so di cosa stai parlando ma grazie per la comunicazione e grazie per averla condivisa con tutti noi della community se c'è qualcuno interessato sicuramente sarà contento ciao luca hai per caso dato un'occhiata a power index è un progetto defy che permette di acquistare dei token defy in stile etf ricordo un po' token sets però una gestione decentralizzata ho visto ho visto ho visto che ne stanno nascendo parecchi tra l'altro di progetti di indici sulle cripto in particolare nel settore defy guarda caso però ti dico anche token sets non è centralizzato perché c'è uno smart contract che va a ribilanciare il peso c'è l'indice che si chiama proprio defy pulse index mi pare e sostanzialmente è uno smart contract che ribilancia periodicamente le varie coin incluse nell'indice in base alla loro capitalizzazione tutto lì questo power index anche è simile è un po' più è vero un po' più avanzato e ci sono un po' più coin disponibili e poi ce ne sono tanti altri ho visto nascenti alcuni che ti permettono addirittura di crearti una sorta di tuo indice però un mondo molto curioso molto interessante e molto in crescita soprattutto mannaggia Luca devo sempre scollegare la vpn per seguire le tue live mi sento in pericolo scam perché non te le fa seguire con la vpn non lo sapevo ciao Luca il tuo video di oggi su facebook mi ha messo un dubbio ottimo oggi ho fatto un mini video dedicato alla tassazione su bitcoin dove riporto quello che in sostanza ho sentito dire io dagli specialisti da cui sono andato per parlargli di tassazione di gestione fiscale tutto quanto specificando che non va preso come esempio era solo una condivisione di informazioni alla fine dici che gli interessi fatti in cefi o defi vanno tassati al 26 giusto quindi se uno deposita 1000 dollari 1000 si su blockfi bisogna tassare gli interessi annuali in ogni caso ho solo sopra i 50k grazie no perché va tassato tutto su blockfi e ti spiego anche il perché la tassazione sopra i 50k è soltanto sulla compravendita spot attenzione di bitcoin e cripto perché per questa questa come si chiama analogia chiamiamola con la valuta estera analogia che poi giusta sbagliata insomma io la penso sicuramente come voi ma sostanzialmente con la valuta estera se tu compri e vendi a profitto ovviamente una somma maggiore appunto di 52.000 qualcosa in sostanza è considerato un'operazione speculativa e lo stesso se tu detieni su un exchange una somma maggiore di questi 50k per più di 7 giorni allora quello poi diventa un profitto tassabile e invece su blockfi la cosa diversa è che il profitto non è da compravendita di una coin ma è una rendita che ti dà la piattaforma quindi è come se fosse un peer-to-peer lending per capirci che è tassato al 26% a prescindere dalla soglia dalla quantità dal controvalore che tu ci stai andando a depositare sopra quindi la risposta è che va tassato tutto ahimè ciao luca come vedi la sicurezza in un mondo full crypto a differenza di ciò che accade con il settore bancario si può essere derubati del proprio intero valore in una botta sola mediante coercizione guarda domanda molto stimolante molto interessante perché in sostanza in un mondo full crypto uno deve imparare a gestire la sicurezza in maniera autonoma completamente autonoma e questo vuole anche dire essere difendibili cioè riuscire a difendersi da un attacco che può essere qualcuno che ti viene a minacciare e dire dammi la tua chiave privata e insomma devono esserci bisogna pensare a tutte queste logiche e riuscire a trovare un modo per difendersi per trovare cioè come l'equivalente magari di avere le cassette di sicurezza di avere non lo so qualcosa la combinazione della cassaforte che avete in casa nascosta che uno te la può estorcere magari dentro ai lingotti d'oro bisogna pensare un po' alla stessa cosa traslata sul mondo dell'ecrito quindi nascondere bene le chiavi private camuffarle magari creare dei falsi fare degli onay pots si chiamano quindi delle piccole appunto dei bait delle esche che puoi dare se magari qualcuno non lo so c'è da pensarci sarebbe curioso però sicuramente avrebbero molto successo le assicurazioni che immagino nascerebbero e soprattutto i servizi centralizzati guarda caso che si prendono la briga di gestire la sicurezza al posto tuo è un po' quello che succede già ora ecco ciao luco acquistato il ledger x col tuo ref bravo grande ma sei riuscito spero a approfittare dello sconto del black friday perché c'era uno scontone fino a pochi giorni fa nexo e q coin distribuiscono utili è vero anche q coin anche kcs trovo sia una domanda sensata specie dopo lo scandalo di leak indirizzi e nomi di ledger sì 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 no è sensatissima perché tra l'altro se poi ci pensi il gestire la sicurezza per davvero nel mondo delle cripto anche senza pensare alla minaccia fisica proprio il dire non lo so la chiave privata dove la metti se la metti online è a rischio furto perché l'online è a rischio per definizione se la metti offline ovviamente se uno ti viene in casa e te la trova te la vede magari è come se ti rubasse tutto quello che hai quindi tu devi cercare di pensare un modo per renderla non comprensibile a nessuno però non tenerla online è veramente potenzialmente complicato ma se facessimo un'analisi di BTC guardando i diversi indicatori fear and greed inflows exchange volume questo per provare a capire se effettivamente i 20k sono o meno alla portata vi linko un tool per vedere dove sono i muri di vendita sui vari exchange vediamo vediamo dunque guarda grazie per il tool intanto me lo sto guardando e per il discorso dei dati on chain io non sono un grande fan a dirti a dirti la verità cioè non c'è da fare la registrazione peccato beh interessante però perché permette di vedere appunto la liquidità sugli order book no dicevo che i dati anche il fear and greed index quelle cose lì cioè non lo so mi sembra che dicano cose che già si sanno l'ingresso e l'uscita dagli exchange anche quello cioè di correlazione operativa poi col prezzo ogni tanto c'è ogni tanto non c'è la si sottolinea solo quando c'è e ci tende poi a dare un significato maggiore di quello che realmente ha non lo so io mi fermo a guardare il grafico e basta non mi faccio troppe troppe paranoie poi non lo so se qualcuno ha qualche insight da dare tipo qualche dato interessante potrebbe essere un'integrazione utile allora sta correzione eh boh non lo so non so da dove arrivi la correzione chissà chissà nexo pompa senza ritegno ho visto ho visto ciao Luca cosa ne pensi della VPN Orchid o XT se non ho capito male attraverso lo staking del token puoi navigare in sicurezza comunque lo sto appena guardando se mi dai un tuo parere sarebbe gradito anche io sapevo così che in sostanza tu devi vincolare un tot di token per poter usufruire del servizio banalmente e potrebbe essere interessante e magari ci butto un occhio non ho mai approfondito ti dico la verità una delle tante altcoin che avevo guardato e avevo approfondito ciao Luca prima volta che ti scrivo ma ti seguo da tempo grande è un piacere mentre mio nipote corre per casa prendilo con la forza e fagli guardare la live no scherzo poverino poi cresce trabbiato consiglio suggerimento ipotizziamo un profitto altissimo 100k o più cosa consiglieresti per riscattare il profitto è un volo solo andata per le isole Cayman e basta no scherzo guarda alla fine per riscattare il profitto cash out e dichiarazione in quel modo almeno soldi sono puliti te li tieni sei tranquillo nessuno ti viene a rompere le scatole ahimè in Italia le regole sono queste tra l'altro anche anche averceli lì significa comunque doverli dichiarare e poi vedi cioè reinvestili magari li diversifichi in altro perché esporsi così tanto solo sulle cripto poi magari tu hai 10 milioni di capitale 100k non è niente però insomma essere esposti così tanto esclusivamente sulle cripto potrebbe essere un po' uno spreco di esposizione anche su altri asset poi dipende tutto ovviamente dalla visione che uno ha e da come vuole investire il suo portafoglio il suo capitale KiperDAO la conosci ma sai che ci avevo dato un'occhiatina a KiperDAO perché mi ispirava però poi non ho approfondito a quella che aveva com'è che si chiamava Rook mica il token mi sembrava interessante era interessante anche quella però poi ho fatto un'osservazione solo superficiale M formation sul giornaliero ma secondo me non c'è non ci sono tante formation sul giornaliero è una lateralità vediamo dipende poi dove viene rotta ciao Luke una domanda su Yearn Finance sul wallet privato detengo i token YCRV come liquidity provider di Curve se li sposto sul vol di Yearn equivale a spostare la liquidità e quindi non produrrà più interessi su Curve e dipende se tu li hai messi in staking i token di Curve oppure no altrimenti no perché il token cioè se è semplicemente il token da liquidity provider è come un swap in sostanza tu quando andavi a fornire liquidità a Uniswap ti dava l'Uni LPV2 come si chiamava e su Curve stessa cosa in sostanza se tu lo sposti non cambia niente perché l'interesse è prezzato nel valore del token che corrisponde a una fetta del liquidity pool di Curve di Uniswap eccetera quindi non è assolutamente un problema spostarlo l'interesse lo produce sempre ciao Luke ho visto il tuo video su faccialibro sugli aspetti fiscali se faccio trading devo conteggiare il 26% su ogni gain anche se crypto su crypto o solo quando passo da crypto a fiat o ancora solo quando esco dall'exchange con un gain guarda in realtà sarebbe sul trading speculativo quindi sui derivati sarebbe ogni operazione la cosa facile è tenere conto di tutte le operazioni per renderle dimostrabili e poi quando tu esci in euro tu vai a fare il calcolo in sostanza è la stessa cosa vai a fare il controvalore finale dall'inizio alla fine e poi se ti chiedono di dimostrarlo tu devi però avere l'elenco di tutte le operazioni eseguite la differenza è quella se invece è spot la tassazione è soltanto all'uscita in euro e soprattutto solo se è superiore ai 50 e qualcosa mila euro time frame 12 ore cosa cosa mi sono perso qualcosa buonasera a tutti grande Luca buonasera ci sono anche oggi mitico mitico Luca grazie per tutti i tuoi contenuti grazie a te ho visto con interesse oggi quello su facebook in merito a tasse dichiarazioni lo sapevo che alla fine avrebbe interessato sarebbe interessante una serata tema con un esperto del settore è vero assolutamente sì infatti vorrei farla ti dico puoi vedere cake bnb l'abbiamo visto io sono molto attratto dai triangoli bravo bravo ottima scelta ottima scelta io il triangolo non l'avevo considerato sul grafico non l'avevo considerato neanche io solo sul grafico ma hai visto bitcoin euro su coinbase cosa ha fatto un altro dump scommetto fatemi indovinare coinbase cosa ha combinato ah vabbè un po' di giorni fa sì sì avevo visto eh ma questo è il bello cioè il bello il brutto dei mercati liquidi che in sostanza ti dumpano perché non c'è liquidità sull'order book e va a finire che un ordine di vendita un po' più grosso del solito ti sballa il prezzo completamente questo è un po' il contro di operare su mercati liquidi il pro è che se tu ti metti un ordine in basso magari per fortuna te lo filla io mi baso sulla price action le figure non le considero lasciano il tempo che trovano guarda io la vedo abbastanza come te però ovviamente le figure sono legate un po' a doppio capio con la price action perché anche il famigerato triangolo per tenerlo sempre in considerazione sono dei massimi e dei minimi quindi nel momento in cui tu vai a fare un nuovo massimo rompendo il triangolo un higher high inverti un po' la struttura e alla fine la price action ne risente sono due cose un po' simili l'unica cosa è non scavare troppo a fondo nei time frame ecco quello si per esempio Renato Zero non lo considera il triangolo no lui no basta ormai mi avete memato con sta storia del triangolo sono completamente spacciato voglio un meme fatemelo mi raccomando su discord ue Luca ma il video su 3 commas credo sia un must non puoi tirarti indietro grazie per tutto ciò che fai guarda lo volevo fare però non lo so poi avevo parlato con alcuni di voi e qualcuno mi ha detto ma si ma costo un po' tanto ci sono alternative migliori a costo minore allora non volevo farvi fare una cosa che poi magari costa di più e c'è di meglio quindi è quello che mi ha un po' bloccato mi spiaceva come faccio ad abbonarmi a costo zero al tuo canale con Prime non l'ho mai fatto vorrei provare perché te lo beri ti fai sempre un ottimo lavoro grazie per il pensiero innanzitutto e come si fa guarda in sostanza tu da Amazon devi collegare il tuo account Twitch non ricordo esattamente dove ma dall'account Prime Gaming si dovrebbe chiamare tu lo colleghi e poi basta in realtà tu entri su Twitch e dovrebbe essere già tutto fatto sul canale della Nappi non si fa fatica edificare triangoli lì triangoli a profusione dai che poi mi bannano che ultimamente ho visto che stanno bannando tutti su Twitch mamma mia no Luca Sekiro è più ingestibile di Crossy taci taci non mi ci far pensare perché l'ho iniziato da poco ci avrò quante ore avrò 5 ed effettivamente è bello tosto ma me l'aspettavo From Software lo conosco buonasera ciao a tutti cosa ne pensi di Kton non conosco mi spiace non so cosa sia ciao Luca ma il croc che ottieni col cashback della carta li dumpi subito guarda di solito ogni mese faccio un piccolo non so neanche come chiamarlo come se fosse un piccolo piano d'accumulo ma in realtà subito subito no anche perché poi devi averne una quantità minima per venderli quindi aspetto di racimolarla e basta e basta allora dove si si sono nuovi utenti mi sono perso qualcosa mi sono perso qualcosa sui nuovi utenti non lo so vabbè una shitcoin a quanti punti canale equivale in realtà non sono i punti canale è diverso sono cose separate come dice mdmico e in sostanza le shitcoin le ottieni guardando guardando in live partecipando e tutto quanto e le vedi cliccando qua sotto sul logo e in basso a destra vedi il numero di shitcoin dentro al video player ciao nella promozione di fine anno su nexo meglio ottenere euro depositando euro o token ah ecco è quella che ha per i nuovi utenti ho capito la promozione di nexo meglio ottenere euro depositando euro o token nexo anche in ottica di tasse guarda non cambia non cambia molto con i token ti introduci la volatilità del token con l'euro tu tassi solo il 26% sull'euro e poi che dire è meglio o peggio dipende da che cosa vuoi perché se tu vuoi ottenere una rendita su un qualcosa di stabile è indubbiamente euro altrimenti se vuoi investire nel token nexo potrebbe essere meglio il token nexo ti piace giocare a poker ma guarda non sono appassionatissimo però ci gioco ci gioco ogni tanto ci gioco ciao Luca grande come sempre grazie di illuminarci la strada addirittura volevo chiederti una cosa sul trading automatico quando fai il backtest su una strategia ha senso cercare il settaggio migliore tipo in una strategia che utilizza le IMA cercare con che IMA ottiene i risultati migliori tipo considerare anche un IMA 58 per esempio oppure facendo così overfiti la strategia grazie mille continua così speriamo di incontrarci alla crypto conference ci incontreremo di sicuro perché io ci sarò e spero di incontrare il più possibile di voi tra l'altro mi era saltato in testa anche l'idea di propormi per fare uno speech proprio sul trading algoritmico vediamo comunque dicevo che per evitare l'overfitting un metodo che a me piace abbastanza è finestrare i campioni quindi in sostanza non lo so immaginati di avere i dati dal 2017 al 2020 e prendere un anno solo per cercare il valore di ottimo su quell'anno lì ok tu trovi il valore di ottimo e poi lo testi sugli altri anni e fai così su diverse finestrature e vedi un po' poi oddio anche lì si può automatizzare creando appunto una funzione di ottimo che devi definire tu altrimenti a occhio tu provi a vedere fai questo questo campionamento su diverse finestre temporali e vedi quale si comporta meglio quale parametro si comporta meglio un po' in tutte le condizioni quindi che in un anno funziona bene sposti nell'altro anno ti esce lo stesso parametro bene è una cosa che vuol dire che non è overfittato oppure provarlo magari su diversi time frame su diverse coppie per capire cioè non ovviamente che ti dia lo stesso risultato ma comunque un qualcosa di che non cambi da così a così che da una parte ti dà il 5000% e dall'altra ti va in negativo perché altrimenti vuol dire che probabilmente è overfittato sono tutte un po' queste cose finalmente sono entrato a far parte della community discord meglio tardi che mai benvenuto mi spero che che ti faccia piacere farne parte ciao Luke conosci tuned.com assolutamente sì è una piattaforma di backtesting molto efficiente strutturata per algoritmi in PyScript puoi fare tante cose e tutto gratuitamente a me sembra una potenza sì guarda l'avevo anche provata però il problema è che non riuscivo a fargli a dargli in pasto la mia strategia cioè me la prendeva mi trovavi parametri però non me la riusciva a graficare quindi mi ero fermato lì comunque amici miei mi sto perdendo nelle vostre domande e mi sto dimenticando quasi di guardare i grafici vi ho detto non c'è molto da dire però un occhio non ce lo vogliamo dare alla prossima comunque ho già l'hashtag che sarà triangolo indiretta in ogni caso oggi più che il triangolo abbiamo il range ve l'ho detto un range che inizia dal basso con 18.730 questa zona e poi se vogliamo proprio andare a prendere il pool di liquidità sottostante abbiamo il solito pool di domanda in questa area che va tra i 17.650 e i 18.400 ok qua come vedete ci abbiamo pescato una volta sola e basta poi il range low effettivo contando le chiusure si attesta sui 18.730 circa il range high invece è 19.700 con pool di liquidità in offerta soprastante quindi all'incirca fino a 20.000 che è il massimo storico attuale qua in mezzo c'è appunto questo famigerato range che sta prosciugando totalmente i volumi non durerà secondo me perché in una situazione come quella dell'all time high con un open interest che comunque è discretamente alto adesso non so neanche dove andarlo a vedere avevo visto questo quest'altro sito che mi piaceva faceva vedere un po' di dati ma non mi ricordo se c'era anche l'open interest no ovviamente no sì eccolo qua futures arriviamoci miliardi 7,3 miliardi non male 1.15 su Binance il CME che ormai è al top 1.31 su OKEX che ha recuperato alla grande e poi a scendere Bybit BitMEX FTX FTX che sta scalando tra l'altro in ogni caso abbiamo un open interest elevatissimo e quindi al primo strappo open interest sui derivati a 7 miliardi significa che al primo strappo da qualche parte scatena turbolenza e al momento i livelli chiave sono esattamente questi poi volendo abbiamo ve l'ho detto questo pool di liquidità in domanda insomma se andiamo a fare dei movimenti repentini fuori da questo intervallo di confidenza in cui ormai si è creata la comfort zone di Bitcoin ne potremmo vedere delle belle questo è il motivo per cui bisogna fare un sacco di attenzione soprattutto con gli stop loss perché prendere posizione prematuramente può comportare un rischio notevole cioè ci forza alla fine a mettere uno stop loss largo perché prendere posizione adesso e mettere uno stop loss qua sotto è un suicidio perché lo stop loss ti salta completamente metterlo appena qua sotto anche a un suicidio perché lo sweep è quotato veramente poco andrebbe messo quantomeno qua sotto uno stop loss di una posizione anticipatrice adesso di breakout perché volendo qualcuno mi diceva visto che ultimamente sapete che condivido anche i setup altrui qualcuno mi diceva che questo potrebbe essere visto come una lateralizzazione durante un setup bullish è vero durante un bias bullish scusate è vero però bisogna sempre considerare il fatto che il bias è bullish fin troppo nel senso che il mercato è iperesteso abbiamo sopra la testa una resistenza importante e siamo i massimi storici quindi il setup di lateralizzazione in bullish non per forza deve essere un'accumulazione in questi casi non abbiamo appena fatto un breakout siamo un po' sembra un po' il culmine potenziale di un trend anche perché la domanda sta facendo fatica caspita ci fosse ancora la FOMO che c'era prima la domanda cioè l'avremmo rotto in un secondo questo questo time high invece no come vedete l'offerta si è fatta vedere abbastanza volte da reprimere i tentativi finora e costringere ahimè bitcoin in un infamissimo range adesso c'è da vedere un po' quali saranno le sue prossime mosse in ogni caso abbiamo il bull scenario ovviamente che ha la rottura dei 20.000 ma con permanenza perché con un bed interest così alto l'altro rischio è quello di fare falsi movimenti quindi di andare a rompere magari salire anche un po' e poi riassorbire tutto è un pericolo da non sottovalutare anche questo e idem per l'altra parte cioè se andiamo a ribasso ad andare a scavare la liquidità qui potrebbe tranquillamente ritornare poi dentro al range quindi attenzione a queste tipologie di movimento i falsi break sono dei setup interessanti quindi esempio se facciamo un movimento qua sotto andiamo di nuovo a pescare e rientriamo all'interno del range potrebbe essere un bel setup long con stop loss anche ben definito in questo caso però sempre un setup da range quindi prevedrebbe il primo take profit sul range high prima di seguire trend follower sempre perché comunque anche se questo range è in un bias bullish rialzista abbiamo un po' di eccezioni che sono appunto l'iperestensione il massimo storico che rendono un po' pericolosa l'operatività tradizionale e quindi questo è un po' il problema personalmente io ho il mio solito short di edging aperto con lo stop loss un po' in alto sopra i 20.100 e così via che lo tengo aperto come copertura sempre intanto sto farmando un po' di funding già che ci sono che è abbastanza positivo ultimamente e che altro basta non ho intenzione di aprire posizioni perché la cosa che mi incentiverebbe ad aprire posizioni adesso se non avessi aperto lo short sarebbe un lower low rispetto a questo altrimenti uno short non lo aprirei in questa fotografia sinceramente e quindi lower low uguale possibilità di short per quanto mi riguarda altrimenti c'è la possibilità di long ovviamente in caso di breakout confermato adesso dubito che farà breakout e retest puliti in una situazione come questa però un breakout confermato mi porterebbe a cercare nuovamente i long nonostante l'iperestensione e tutto quanto effettivamente sarebbe particolarmente bullish come cosa e per il resto basta il resto si può ricercare sull'intraday per chi ha voglia di speculare comunque con setup da range che abbiamo visto appunto poco fa range low che in realtà sulle 4 ore si può spostare qua giù guardate clusterino da cui origina e abbiamo i 18.600 come range low e il range high in ogni caso rimane sui 19.700 e qua volendo abbiamo dei lower high poco alla volta anche se questo non è ancora confermato come lower high perché qua non ha fatto lo swing non è ancora iniziato lo swing però in questo caso si potrebbe anche se non ha veramente senso seguire la rottura dei massimi per andare a cercare ancora più da vicino quindi si parla quasi di scalping però andare a cercare appunto un setup ancora più cresivo non lo so vedete un po' voi e questo direi che è quanto su bitcoin non ci dovrebbe essere altro da aggiungere beh il settimanale ha fatto l'all time high se vi interessa la settimana scorsa ha chiuso l'all time high e poi sul settimanale abbiamo un supporto che si è formato nella zona 18.350 questo cluster intermedio rosso che vedete qua che però anche sul giornaliero è discretamente visibile perché si trova bene o male in questa zona di liquidità quindi sono sempre quelli i livelli chiave nient'altro da dire io sto a guardare aspetto che gli altri facciano la prima mossa e si facciano avanti in questo scenario potenzialmente turbolento poi aspetterò la turbolenza una volta esaurita la turbolenza prenderò di nuovo posizione se continuiamo a ritracciare più avanti magari cerco il setup long attenzione altro setup long che ci può stare non so se l'ho detto mi pare di no in caso di breakdown e magari continuazione così se c'è il reclaim di questo livello questo è un altro bel setup long che mi piacerebbe questo allora lo seguirei però è presto adesso si tratta veramente di fantasticare Ethereum dove sei? eccoti qua allora Ethereum vabbè niente anche qua niente da dire ho la mia parte di posizione trend follower aperta che avevo aperto qua dentro e al momento sta tenendo questo supporto e la cosa mi piace se dovesse perderlo non so probabilmente valuterei se chiudere la posizione anche perché ha fatto questo high puntiforme questo doppio massimo ha creato un altro pool di offerta in questa zona andiamolo ad evidenziare che non l'ho più fatto tac e tac eccoci e quindi anche qua siamo in un range mamma mia è una condanna sti range è devastante un range tra l'altro spazzolato completamente da questa candela che è quella che l'ha innescato in pratica niente aspettiamo e vediamo ve l'ho detto se perdiamo questo supporto io valuterei l'eventualità di chiudere il long se invece continuiamo a rialzo lo tengo aperto perché l'idea è di farlo trend follower yearn l'abbiamo visto poco fa e anche qua non c'è molto da dire se non che non so perché questo l'ho fatto verde che anche lui è un bel pullozzo di offerta e dobbiamo vedere come reagiamo io ho la mia posizione aperta così come la vedete come mamma l'ha fatta come papà l'ha fatta anzi in realtà in questo caso e il take profit totale è a 1.8 take profit totale in questo caso perché comunque arriva da un downtrend discretamente importante preferivo gestirla così bene ragazzi questo è quanto sulle mie posizioni allora adesso andiamo a vedere ave perché qualcuno me l'ha segnalata allora ave guardate tra l'altro che sta facendo un setup potenzialmente interessante allora abbiamo questo guardate allora guardiamo tutti i livelli chiave questo qui a 3212 che è stato recuperato era nato qui è stato ripreso e ritestato ok quindi questo è uno poi l'altro ostacolo era questo pool di offerta che è stato utilizzato più volte da un po' entrambi i lati qua è stato un po' boh su giù su giù così ci ha dato un po' di testate senza troppi senza guardare in faccia nessuno e quello che è accaduto è che alla fine l'abbiamo ripreso adesso io non so sul time frame settimanale se quel livello lì è confermato in realtà sì e quindi è un livello da tenere nonostante questa queste oscillazioni che l'hanno usato un po' più che come livello chiave come attrattore in ogni caso il fatto che vedete qua ha sempre funzionato due volte e poi qui abbiamo fatto un di fatto un higher high stiamo lateralizzando qui adesso purtroppo queste lateralizzazioni dopo i break così non troppo convinti non mi piacciono granché perché a volte si rivelano dei falsi break quindi la possibilità di long anticipatore c'è con stop loss magari qui sotto che utilizza questo livello come livello di stop se si vuole fare speculativo altrimenti c'è qua sotto addirittura ed è ancora più largo altrimenti c'è questo livello 5300 circa che è il prossimo cluster settimanale eccolo tac e quindi potrebbe essere un eventuale entry più avanti per chi vuole ancora aspettare amici io direi che vediamo se c'è qualche altra ave l'abbiamo lei l'abbiamo visto volevo dirti che invece di just chatting potresti mettere la categoria cripto considerando che esiste sì lo so però il fatto è che non lo so ho paura che poi ci sono meno spettatori dovrei provare magari ci provo la prossima volta puoi rispiegare breakout e retest ma breakout e retest in realtà è semplicemente una resistenza che viene rotta e toccata poi dalla parte opposta che può essere una resistenza o un'area bene 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 altre domande vediamo ci riprovo dopo mesi che mi sono sciroppato i tuoi video ho sentito che ero pronto a fare il grande salto partecipare alla tua diretta grande ti sei meritato guarda 20 shitcoin anche tu via te le meriti tutte quante benvenuto alle dirette a questo fantastico mondo che è twitch e la nostra folle community amici io vi ringrazio davvero per avermi seguito una stable coin legata all'euro non lo so se c'è ancora c'era mica stasis non lo so non lo so mi ricordo che c'era ma non so se adesso c'è ancora comunque vi dicevo grazie per avermi seguito io in questi giorni che vi ho detto stavo guardando questo ma non ho approfondito eccetera non è che sono stato con le mani in mano perché a parte che sto preparando un po' di nuove cose per noi della community in realtà ho approfondito il discorso dei piani d'accumulo domani vorrei far uscire un video dove concretizziamo i risultati di un piano d'accumulo applicandolo a trading view quindi uno script che si può sovrapporre ai grafici di trading view potendo quindi simulare di fatto un piano d'accumulo domani se riesco lo devo ancora ultimare ma ci sono quasi domani comunque arriverà e che dire per chi si è perso in live se lo può guardare sul tubo come al solito perché adesso l'ho riposto tra poco sarò con gli amici di Binance Italia a fare un ask me anything sul loro canale telegram così da dare una mano alla loro community se hanno qualche dubbio su Binance visto che io ormai lo uso giorno notte mentre dormo mentre sono in bagno in qualsiasi istante e quindi sarò lì tra poco alle sette e mezzo ho fatto tutto sequenziale poi torno a giocare a Sekiro così ci manca solo quello andiamo a impazzire un po' amici detto questo basta non vi tengo oltre abbiamo fatto un'ora vi auguro una buona serata noi ci rivediamo live mercoledì e vi voglio sempre sul pezzo e chissà che nel frattempo non si sia palesato qualche altro triangolo chi lo sa chi lo sa buon triangolo a tutti grazie grazie